E' stato un arresto cardiaco a provocare la morte di Enzo De Julis, 63 anni, originario di Napoli, ma residente ad Agropoli. L'uomo, pensionato e scapolo, abitava a pochi metri dallo specchio d'acqua dove ha trovato la morte. Da alcune testimonianze raccolte da persone presenti al momento dell'immersione, sembrerebbe che l'uomo, gettandosi in acqua tra la scogliera e la foce del fiume Testene, abbia trovato la morte a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Banni sono stati tentativi delle persone che lo hanno immediatamente soccorso. Per Enzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri coordinati dal capitano Giulio Presutti e la rianimativa del PSAUT, che ha tentato per diversi minuti di rianimarlo. L'uomo era single ed era stato capitano di lungo corso in marina.